seconda corsa premio cipollini mario miglio per i quattro anni affidati ai gentleman prova del campionato italiano gentleman 2018 9 i concorrenti al via con il numero uno via rose gianni manzone il 2 vendetta giovanni conti il tre volte dei margian paolo de caro il 4 vigo di case luigi migliaccio il 5 vermont ch sm marco minucci il 6 van gogh dei vetri andrea sallustio il 7 vero s giuseppe ossia seconda fila per velvet crp fabrizio martinelli e visse road con massimo rodolfo rinuncia al lancio vera os e di galoppo vigo di casei e allo stacco emergono vermont ch sm con all'esterno van gogh dei vetri che cerca di sopravanzarlo operazione che riesce ora di precisione van gogh dei vetri leader imboccando la prima curva il lancio che va via in 14 e 1 per van gogh dei vetri davanti a vermont ch sm via rose quarta posizione per volt deimar più indietro gli altri capeggiati da vendetta e velvet crp che cerca di risalire all'esterno lo anticipa volt deimar che muove dalla quarta posizione nel frattempo sbaglia vendetta volt deimar avanza al lato di vermont ch sm che segue sempre van gogh dei vetri l'azione di volt deimar è seguita da velvet crp che lascia ora in quinta posizione via rose più indietro ad inseguire ci sono vero s e vis road volt deimar che insiste giunge al salchi del leader van gogh dei vetri e va ad impegnarlo poi difficoltà per vermont ch sm il chilometro che va via in 1 16 e 4 con volt deimar che ha ragione di van gogh dei vetri sul quale avanza bene velvet crp ha spostato anche via rose sembra in difficoltà anche vermont ch sm siamo al paletto dei mille due con volt deimar che il nuovo leader 1 e 31 per i primi 1200 metri ma ora velvet crp è minaccioso all'inseguimento di volt deimar e via rose emerge in terza posizione superando lo stanco van gogh dei vetri insiste velvet crp all'attacco di volt deimar si avvicina via rose velvet crp e fabrizio martinelli che passano su volt deimar prova ad agganciarli via rose ma senza esito velvet crp in vantaggio volt deimar con qualche problema di andatura deve accontentarsi già palo de caro vince velvet crp su volt deimar e poi via rose 8 3 1 l'arrivo ufficioso un trapasso per volt deimar che però non è sfociato in rottura andiamo a rivedere sul mio cronometro 2 e 2 per la vittoria di velvet crp fabrizio martinelli il training ai colori quelli di paolo pietro paoli 1 16 e 2 per il vincitore vedete che volt deimar non è brillantissimo nell'andatura nel finale e subisce velvet crp grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.